Ciao ragazze, buongiorno e benvenute in un nuovo video. Come state? Oggi ritorno con un video spacchettamento, ho fatto un po' di rifornimento per il periodo natalizio da Passione Unghie e da Golden Ails. Ho voluto ordinare da questa nuova azienda, ne ho sentito parlare sui social, è molto sponsorizzata sui social ultimamente e quindi ho voluto acquistare qualcosina per provarla, anche perché mi è stato consigliato soprattutto il sigillante, il flexiforme di Golden Ails, quindi l'ho voluto provare. Comunque, ora vi faccio vedere un po' cosa ho acquistato. Io ho messo tutto quanto in una scatolina perché non è moltissima roba, anche perché il rifornimento, bene o male, è grosso, l'avevo fatto per il Black Friday, quindi adesso ho ordinato proprio le cose che mi stavano terminando. Allora, inizio subito da Passione Unghie. Passione Unghie intanto ha realizzato i pacchettini natalizi diversi dal solito perché mi è stato tutto impacchettato in questa bustina natalizia troppo carina. Allora, ho ordinato intanto i guanti, questi qua sono i Black Pearl perché mi servivano, mi stavano terminando e quindi li ho voluti acquistare, mi trovo molto bene, anche se sono un pochettino caretti come prezzo. Infatti mi hanno consigliato un altro posto dove prenderli e sicuramente la prossima volta li prenderò lì. Poi andiamo ad aprire subito la confezione. Ok, allora, uscito tutto, vi faccio vedere un po'. Intanto partiamo dall'omaggino che non sono i soliti glitter che mandano spesso, ma stavolta mi sembra di percepire sia in una lima. Wow, mamma mia, bellissima ragazze, bella bella bella, questa la terrò esposta, come ovviamente non la utilizzerò. Bellissima, grazie mille per il regalino. Allora, partiamo dalle cose meno interessanti. Ho ordinato Nile Prep e Binder, di scorta. Questi, vabbè, solito Nile Prep 5,99 e Binder 7,99. Sono i preparatori iniziali, li termino, mi servono e quindi li ho voluti riprendere. Poi ho preso un nuovo spazzolino per l'inghie. Io ce l'ho, ma è ormai tutto disintegrato. E quindi l'ho voluto ordinare. Semplicissimo, spazzolino per unghie, questo forse sulle 2 euro, 2 euro e 20, non ricordo. Poi, 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 passiamo un po' alle cose più interessanti. Ripeto, non ho ordinato moltissimo. Allora, ho preso intanto due decorazioni, eccoli qui, che sono due glitter della linea Diamond Glitter, che sono quelli proprio per effettuare l'effetto zucchero, che ora sta andando tantissimo periodo natalizio, quindi ho preso proprio le colorazioni principali natalizie, che sono la Gold e la Red. Eccoli qui, ve le faccio vedere aperte. E' una polvere estremamente sottile, proprio ultra, ultra, ultra sottile, proprio per andare a... Allora, della fotocamera sembra più gold, invece più champagne. Bellissimo. Veramente, veramente bello. Questo per effettuare le decorazioni è meraviglioso. Tra l'altro era anche in offerta, forse a 1,99 euro, sia uno che l'altro. E questo è il Red. Meraviglioso pure. Veramente bello. Non vedo l'ora di proporli. Vi farò vedere magari qualche lavoretto che realizzo con questi prodotti. Poi ho preso un semi permanente in offerta, 3,99 euro. Sempre pensando un po' al periodo natalizio. Infatti ho preso SP115 Popstar. Io mi sono preparata già le mie tip, quindi le andremo a stendere insieme. Eccolo qui. Bellissimo. Veramente bello. Sicuramente lo utilizzerò in questo periodo. Non ce l'avevo, quindi... L'ho preso. Ve lo farò vedere esteso, comunque. Allora, poi ho preso... Vediamo questo qual è. Ho preso due gel color. Uno è il pure white. Eccolo qua. L'F01 pure white. È il bianco, classico, senza dispersione. Io lo utilizzo per i miei decori. Il passpartout, diciamo. Lo utilizzo per tutto. Quindi l'ho ripreso perché mi stava terminando. E ne sto facendo un uso spropositato in questo periodo. per le decorazioni natalizie. Quindi l'ho ripreso. E poi ho preso anche un gel color in offerta. Questo sempre a 3,99. Che è l'Optical Green. Sempre pensando appunto al periodo natalizio. Eccolo qui. Bellissimo. E' proprio il classico verde. Pieno, pieno, pieno di perlescenze. Olografico. Bello. Veramente bello. Anche colui lo stenderemo insieme. E con Passione Unghie, ragazze, abbiamo terminato. Ripeto, erano proprio due cose precise che mi stavano terminando. Ho voluto fare scorta di alcune cose. E passiamo a Gold Nail. Allora, Gold Nail mi è arrivato in un pacchettino. Un pacchettino piccolino, ma tutto impacchettato veramente bene. Tutto impacchettato veramente bene. Sono arrivato in queste bustine, tutte scocciate. Eccolo qua, vedete? Veramente, veramente imballato bene. Allora, vi faccio vedere. Mi esco tutti i prodotti. Allora, ragazze. Quello appunto, le prime cose meno interessanti. Ho preso un cleaner. E che tra l'altro mi sono sbagliata, perché dovevo ordinare quello grande. Invece, evidentemente, ho ordinato quello piccolino, controllato dall'ordine. Ed è quello da 100 ml. Volevo prendere appunto quello grande, perché mi stava terminando. Però, vabbè, pazienza. Comunque, non si spreca. Lo utilizzerò. Ed è il cleaner appunto delicato, da 100 ml. Non ricordo quanto l'ho pagato. Penso comunque sulle, forse, 5 euro. Non ricordo, sinceramente. Poi, ragazzi, ho preso l'acryl gel solution. Questa è da 150 ml. Mi ha attirato perché... Io comunque, dovunque, diciamo, ordino, cerco di prendere un'acryl gel solution. Perché la tengo di scorta. Essendo comunque che ne faccio un uso veramente, veramente, spropositato. Perché? Perché rispetto a quella di Passione Unghe, che è 110 ml e costa 6,99. Questa qui, 150 ml, 5,99. Quindi, un'ottima qualità prezzo. E l'ho voluta prendere. Poi ho preso... Come vi dicevo prima, mi hanno consigliato tantissimo questo lucido. Il Flexi Gel Extra Gloss, senza dispersione. Me l'hanno consigliato, ne parlano tanto bene. Quindi, ne ho voluti prendere addirittura due. Perché, appunto, mi è stata consigliata una persona di cui mi fido. Quindi, ho fatto direttamente scorta, essendo che stavo facendo l'ordine. Male che vada, voglio dire, lo utilizzo peraltro. E questo qua, appunto, ne ho voluti prendere due, anche perché era un'offerta a 12,99. E quindi, l'ho voluto prendere. La consistenza mi piace tantissimo. È proprio la classica consistenza dei lucidi che utilizzo io, che mi piace utilizzare. Quindi, lo proverò, lo testerò e vi farò sicuramente sapere. Speriamo che sia il lucido della vita. Poi, ho preso tre colori. Allora, uno è il 113. Sono tutti quanti semipermanenti. Sempre sul rosso. Questo è un rosso-aranciato, bello acceso. Me lo aspettavo un po' meno corallo, meno aranciato. Però, lo utilizzerò sicuramente. Ed è, appunto, il numero 113. E anche questi ve li farò vedere estesi. Poi, ho preso il numero 13. Eccolo qua. Questo è veramente bello. Questo è proprio un bel rosso natalizio. Il classico rosso natalizio. E poi, sembra davvero tanto, tanto coprente. Quindi, non vedo l'ora di utilizzarlo. Poi, ragazzi, ho preso il numero 121, che è un glitter, della linea Glitter. Eccolo qui. Io ne avevo uno simile, Angel Color. Mi era terminato. L'ho utilizzato davvero tanto. E quindi, l'ho voluto riprendere, perché l'ho visto molto simile. L'ho ordinato. Questo è un bellissimo, bellissimo glitter rosato. Allora, ragazzi, vi faccio vedere tutti i colori stesi. E vi dico, magari, se c'è qualcuno che mi è piaciuto, di meno o di più. Allora, ragazzi, sono andata a stendere tutti i miei colori. Li ho anche sigillati con il nuovo lucido di Golden Ale. Il Flexi Gel. Allora, sono andata a stendere quelli di Passione Unghe. Eccoli qui. Bellissimi. C'è questo verde, ragazze, che è veramente bello. Proprio un bel colore. Anche questo mi ha sorpreso tantissimo. In realtà, dalla boccetta mi sembrava abbastanza smorto come colore. Invece no. Molto particolare. Poi, che sono rispettivamente la 103. Eccolo qui. E' l'SP 115 Popstar. Eccoli qui. Bellissimi. Due colori che vi consiglio tanto sotto il periodo natalizio. Poi passiamo a quelli di Gold Nail. Allora, sono rimasta un pochettino delusa dal glitter. Che apparentemente può sembrare veramente un bel colore. Ed è il numero 112 della linea dei semipermanenti. Questi sono da 10 ml. Allora, molto bello come glitter. Però, devi fare delle passate veramente abbondanti. Infatti la superficie non mi è venuta perfettamente liscia. Non è male. E' un buon glitter. Comunque anche il lucido. Vedete che è veramente bello. Finora mi piace. E' un bel colore. Sì, però tornassi indietro non lo riquisterei. Assolutamente. Poi, eccoli qua. I due rossi. Bellissimi. Questi veramente, veramente belli. Sono rimasta particolarmente colpita dal numero 13. Proprio, allora ragazzi, è una passata sola. Non ho fatto due passate. E' un colore bellissimo. Veramente bello. Proprio il classico rosso natalizio. Super HD. Colore pigmentatissimo. Veramente bello. Veramente bello. E invece questo è il numero 113. Altrettanto bello. Però sempre un pochettino. Vedete la boccetta forse. Che non è perfettamente coprente dalla prima passata. Ne dovete fare comunque per forza due. Però è bellissimo uguale. Anche lui è un bel colore. Proprio natalizio del periodo. Ed è il numero 113. Questo ragazze era il mio bottino di oggi. Non credo che per dicembre farò altri ordini. Credo che poi ordinerò qualcosina a gennaio se mi termina. Farò le mie scorte. Però questi erano gli ordini che volevo fare. Per prendere qualche colorino anche di scorta per Natale. I rossi non fanno mai male. Già ne ho terminate due boccette. Non so voi come siete già messa. E quindi niente. Eccoli qua. Veramente belli. Sono soddisfatta dei miei acquisti. Ragazzi io vi mando un grosso bacio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!